qualcuno l'ha da fare lo faccio io scelto aspettate che metto un po più piano delle giornali perché no veramente e allora stavo per dire qualcuno l'ha da fare lo faccio io scelto apparecchia la tavola benvenuti in questo vlog ci veniamo insieme serale apparecchiamo insieme intanto scelto eccola qua oggi so che c'è un secondo quindi piatti piani bicchieri bassi mi piacciono chi sti scelto le nostre amate posate color legno della cucina scelto anzi no che stoffa basta basta tutti sti mano 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 basta ora prendiamo le bibite insieme scelto perché le bibite è un momento nostro ormai scegliere le bibite scelto ora prendiamo sempre l'acqua poi che prendiamo ragazzi vediamo bello vino un po conter che questo è andato un secondo diamo un bello vino questo è quello padronale bello buono e noi che ci beviamo stasera io e voi con davo vino che dite apriamo una coca cola enorme tanto per me per voi se no questa che è no limone anche no va bene apriamo una coca ma che è quella cosa ma io l'ho a carta di tutto vabbè vabbè prendiamoci la coca ma volevo capire insieme a voi che cosa è stata questa cosa qua che vive boh bevando alla mela boh vabbè ragazzi non ci fate caso ok bevande prese a prendiamo le mespoline per lui scelto e poi credo nient'altro oggi maionese no mi pare di no va bene andiamo a sbicciare di la che la tavola è pronta possiamo andare a sbicciare di la se volete che dite sbicciare un poco di la diamo un poco di la da lui sì è un poco accusivi che ha fatto la sua pennighella e però possiamo andare da lui ci andiamo siete pronti pronti giro la gamba vediamo ragazzi ciao sbicciamo sbicciamo set buonasera buonasera signor conte buonasera ma che è ma che è carne amore ma per me questo è pesce spada sì pesce spada fettine di carne ragazzi lo fa lui con un guazzetto devo dire scelto però per me c'è questa per lui un'altra cosa che è è già di là perché nel frattempo che io venivo qua lui andava di là scelto non ci siamo incontrati per poco veramente a questa casa prendiamo un castello non incontriamo ma così passiamo male nel stessi stanzi e ancora vabbè ragazzi andiamo di là di nuovo ragazzi torniamo qui quello quella è la mia cena quella carne così solo con quel guazzetto lui guardate quel pollo di ieri se vi ricordate ricordate che lui aveva fatto quel pollo il tempanato che poi faceva la guardate io sto a mangiare i tuoi ali di pollo io che mangio sti cosi no no qualche patatina l'assaggio però a parte le patate niente cucchiaio già l'ho preso due aspetta uno per me un voto guarda quella per me vedete ragazzi certi volte mangiamo così diversi più volte si cucina guarda quella è la mia e se non mi sbrico non sapete niente o scena ah il pane manca aspettate che lo vado a prendere eccolo per me una bella mafalda ci piace pane di casa ci piace pane di casa no mio no 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 va bene cominciate a assaggiare una patatina ma ragazzi se me la concedete anzi se me la concede il conto è più che altro ma posso assaggiare una patatina e chi ti fa Ilario non è roba tua eh ma che c'è una patata la patata è proprio avaro avaro quando vuole avaro è caldo giro la camera e ci andiamo insieme scelto già mi misi bella canica anche se c'è un po di grassetto lo togliamo perché io sogno proprio schifettoso a mangiare una carne è tenerissimo anche si sta rompendo con la forchetta la carne è buonissima buona buona questa è quella che è della guerra c'è terra congelata nel frigo di cosa su Clarisse allora è di prima da guerra quando con la con la tessera si chiedeva di mangiare no guarda che c'è nate olive mangiate olive spezzate con le mani io lo spezzavo con le mani anche se non trovo il cielo in bocca mangia come vuoi non è che devi dar conto a qualcuno tu dove gli occhi non mi metti in mano no mi scusa ma non li metto mai non è vero perché ci sono le prove video no perché quando io apparecchio li metto vero ragazzi ragazzi vero perché non è il primo vlog che faccio l'ate visto vuoi testimoni miei oculari meno male perché se non ha accetto ma che hai fatto oggi raccontiamo no nulla ho dormito non mi dormo tutto i giorni ma voi che state scenando ah stasera ma c'è il ritorno della nostra amica di voi la blasi fa metterlo sul treno finiva stasera ma sto mettendo la blasi sono dei famosi stasera spero noi siamo rimasti a casa siamo famosi non li chiamiamo no un leggerino a proposito è uscito un articolo sull'ultimo evento che abbiamo fatto se lo volete vedere lo volete leggere lo trovate sulla nostra pagina facebook morti di fame sicile edition che dire con te spuppa no sui mangiuganni buona cena a voi buona cena vi amiamo e a domani scelto